Attenzione, allungio ritardo, il treno regionale 12761 delle ore 17 e 57 proveniente da Messina Centrale è diretto a Sant'Agata di Militello, arriverà con un ritardo premesso di 10 minuti. Allungio ritardo, il treno. Attenzione, per motivi di sicurezza la stazione è sorvegliata da telecamere. Annuncio ritardo. Il treno regionale 12-7-6-1-7-57, proveniente da Messina Centrale e diretti tra i soldi. Nessamente da quanto riguarda il cazzo, ci svolgiamo con il disagio. Nessamente da i soldi, posizione di legione del treno 12-7-6-1-5, proveniente da Messina Centrale e diretti tra i soldi, i soldi e indiesbili, e che vi arrivi a 5-6-1-6-1-5.